Con l'ingresso della nostra regione in fascia bianca, alcune amministrazioni comunali stanno valutando se prendere o meno provvedimenti per stoppare in determinati orari la movida, come l'ordinanza firmata dal sindaco di Pescara Masci. A termo al momento l'amministrazione comunale ha deciso di non emanare nessuna ordinanza che stabilisce limiti di orario per i pubblici esercizi. L'orientamento è quello di verificare prima come vanno le cose, visto che fino ad ora con la zona gialla in città grossi problemi non ci sono stati. Per adesso abbiamo preferito aspettare l'evolversi della situazione, controllare e monitorare la città, è chiaro che siamo pronti anche noi ad adottare un'ordinanza qualora fosse necessario. Per adesso i dati sanitari e quello che vediamo in città non ci preoccupa in nessun modo, quindi sarebbe stata un'ordinanza probabilmente inutile, quindi aspettiamo, monitoriamo e poi decideremo. Da una parte penso che sia una cosa fondamentale per tutte le attività, soprattutto ristorazione come noi, i ristoranti, che non ci sia più coprifuoco, quindi c'è la possibilità di lavorare fino a un orario che non era previsto come prima, però questa è tutta un'incognita perché giustamente con tutte le restrizioni che sono state fatte prima nel campo della ristorazione abbiamo subito una bella botta perché l'orario quando si inizia a lavorare devi chiudere, ci ha dato una bella botta a livello economico e sicuramente adesso in questo periodo andranno bene giù al mare, noi in città ci arrangeremo qualche evento che organizzerà il comune, qualcosa e cerchiamo di andare avanti, ma la maggior parte usufruiranno al mare, questo è un dato di fatto, è una statistica che in periodo estivo se lavora giù sulla costa è normale, però siamo fiduciosi. Sì, per il momento non ci sono ordinanze che è il limite, anzi diciamo tutto aperto, si torna come prima. Vi aspettate un weekend di fuoco? No, tutti i giorni sarà fuoco, ma per fortuna che due giorni piove spegne un po' le anime, tutti i giorni sarà un weekend di fuoco che la gente ha voglia uscire, si torna come prima, risse, casini e tutto il resto.